Tutto pronto dal Rihanna Athletic Center, è il pomeriggio di Roma City United Riccione, l'incontro valevole per la diciannovesima giornata del girone F della Serie D. Per tanto cercare Ascoli, ma il pallone va su di Renzo. Pallone al centro, è di testa, il pallone sulla linea e c'è la rete, si sblocca l'incontro! Dopo sei minuti dall'inizio del match, il Roma City si fa avanti e Ingretolli va subito a festeggiare in panchina con i compagni. Tonelli, manda al centro, è entrato pallone, che passa, c'è un fischio, c'è un giallo, deve essere addirittura, deve essere un calcio di rigore addirittura. C'è una spinta sul giocatore della United Riccione, del rigore, è penalty per la United. Parte il giocatore di United e c'è la parata di Dichiara, con palo, è ancora Dichiara, non arriva però, c'è la rete, la rete in seconda battuta lì, della United Riccione, che ristabilisce il pari. Diciamo al 26esimo, all'inizio del match, 1-1 tra Roma City, che si era portato avanti con Ingretolli e United Riccione. Intanto la rete del numero 3 Ramirez, davvero un destro letale, messa alle spalle di Dichiara, quindi ribalta il risultato, la formazione romagnola, ma in questo momento c'è il duplice fischio, con lo United Riccione avanti per 2-1 sul Roma City rimonta.